Ecco il cast svelato in anteprima per la diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi, che promette scintille fin dal primo episodio. Quest'anno, il reality show di Canale 5 vedrà alla conduzione Vladimir Luxuria. Al suo fianco, nello studio, ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre dall'Honduras avremo Ele Noir Casalegno, pronta a tuffarsi nell'avventura insieme ai naufraghi. Tra le figure più attese troviamo un mix variegato di talento, grinta e personalità, che sicuramente daranno vita a momenti indimenticabili. Dal mondo della danza arriva Samuel Peron, noto al grande pubblico per il suo talento di ballerino. Lo sport è rappresentato dalla leggendaria schermitrice italiana Valentina Vezzali, mentre la cucina avrà il suo eroe in Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 2022. L'arte della recitazione sarà ben rappresentata da Aran Senol, conosciuto per il suo ruolo in terra amara, e Maite Janes, mentre il mondo dello spettacolo brillerà con la presenza di Selene Edoardo Stoppa e l'eterea bellezza di Francesca Bergesio, Miss Italia 2023. A completare il cast ci sono Matilde Brandi, showgirl di lungo corso, Greta Zuccarello, ballerina e modella, il modello Arthur Dainese, l'attrice Marina Suma, e, ultimo ma non meno importante, lo chef Joe Bastianich, pronto a mettere alla prova le sue abilità di sopravvivenza. Questo cast promette un mix esplosivo di emozioni, strategie e, perché no, qualche simpatico intrigo. Gli spettatori si possono aspettare una stagione ricca di colpi di scena, avventure indimenticabili e, naturalmente, la lotta per la sopravvivenza in uno degli scenari più suggestivi e selvaggi del pianeta. E allora non resta che sintonizzarsi su Canale 5 da lunedì 8 aprile chi tra questi avventurieri riuscirà a catturare la nostra attenzione e conquistare l'isola. Le personalità sono diverse e le storie promettono di essere intriganti. Non vediamo l'ora di scoprire come si evolveranno le dinamiche tra i naufraghi e quali sfide dovranno affrontare. Ricordati di commentare qui sotto chi sei più curioso di seguire e quali dinamiche ti aspetti di vedere. E se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti a Flash Trend Ita e attiva le notifiche per non perderti nessun aggiornamento sull'isola dei famosi e molto altro dal mondo del gossip e dell'intrattenimento italiano.